Dopo il progetto Plastic Free e Carta Free, per dire no alla plastica e carta, arriva da parte dell'ente parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l'iniziativa Un Parco Libero dall'Amianto. Una cabina di regia unica sull'Amianto la propone, infatti, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, per dare risposte ai cittadini sulla mappatura, la bonifica, il monitoraggio e la ricerca. Dobbiamo mettere in campo le migliori tecnologie e lavorare con i progetti di eccellenza italiani in questo settore. Non possiamo più aspettare e osserva il ministro, commentando la presentazione dei dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto, che richiamano l'attenzione su questo tema a volte in secondo piano. Sono infatti ancora 32 milioni di tonnellate di amianto presenti nei territori italiani, scuole, ospedali, edifici pubblici in generale, che in molti casi infatti è ancora presente e grazie alla campagna di sensibilizzazione, che partirà a breve da parte del parco del Cilento, si cercherà dunque di bonificare l'intera area. Oggi il tema dell'Amianto è un tema centrale, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa oggi ha creato una cabina di regia nazionale per cercare di contrastare ancora i 32 milioni di tonnellate di amianto che ci sono nei nostri territori. Un'area protetta come la nostra non può esimersi, ovviamente non può certamente sottrarsi ad un impegno importante perché troppe sono ancora le patologie legate all'amianto, troppe ancora sono le morti legate all'amianto, penso ai tumori del polmone, alla sbessosi, mesotelioma, sono tutte patologie purtroppo che hanno una certa relazione con la presenza di amianto, soprattutto quando l'amianto non è integro. Allora noi metteremo in campo una campagna da una parte di premialità per quei comuni virtuosi che smaltiscono l'amianto in modo corretto, dall'altra parte metteremo in campo una campagna di sensibilizzazione, a cominciare chiaramente dalle scuole, ma ovviamente nell'intero territorio e cercheremo oggi di anche, soprattutto di eliminare l'amianto innanzitutto dalle scuole, ma l'amianto soprattutto a quegli edifici pubblici che oggi dovrebbero essere liberi dall'amianto che determina non pochi problemi per i nostri territori. Ovviamente ed è chiaro che la campagna che metteremo in campo, ripeto, è una campagna che mira soprattutto a liberare il nostro territorio dall'amianto, ecco questo quindi noi ci auguriamo e l'invito è anche rivolto alle famiglie che hanno, amiando nelle proprie case, di liberarsene in modo corretto, quindi in modo corretto chiamando le ditte specializzate. Noi anche su questo stiamo cercando di mettere in campo una serie di convenzioni per favorire il più possibile, perché ovviamente ci sono dei costi a volte anche abbastanza esosi, noi cerchiamo di abbattere questi costi, di andare incontro attraverso una serie di convenzioni per fare in modo che l'amianto venga smaltito in modo corretto anche dalle singole famiglie che ancora hanno in casa questa problematica.